Oggi avete parlato di rifiuti, di green economy e un po' anche il segno che la vostra campagna elettorale va avanti indipendentemente dalle polemiche di questi giorni sulle primarie che il Presidente Crocetta non vuole più o che vuole un po' diverse, un po' più corrette, dice lui. Se questo è l'intendimento ci troverà chiaramente al suo fianco, come lo siamo stati fino ad oggi e come lo saremo anche domani. Le primarie devono essere corrette, noi siamo all'interno di questo percorso, abbiamo combattuto affinché siano corrette, affinché ci fossero 11 seggi nelle principali piazze della città, affinché non si pagassero i 2 euro, non fosse obbligatorio pagare i 2 euro, affinché ci fosse un'ampia partecipazione ma controllata. Crocetta faccia un passo indietro, come dire, si ravveda in questa sua posizione e la Professoressa Furnari compete insieme a noi in maniera assolutamente leale, saremo al suo fianco qualora vincesse queste primarie. Il primo rischio da evitare è chiaramente di presentare due candidati per il centro-sinistra e favorire così nettamente gli avversari. Ma questo è evidente, è quasi certo che comunque si andrà al ballottaggio, in questo modo rischiamo anche di non andare al ballottaggio. Chi si vuole assumere questa responsabilità? Detto questo, noi oggi abbiamo fatto una conferenza stampa su temi che riteniamo importanti per la città, perché è questo lo spirito con cui stiamo contribuendo a queste primarie, con l'obiettivo di vincere, chiaramente, ma anche con l'obiettivo ideale di voler dare un contributo alla prossima amministrazione. Questa città ha bisogno di un modello di sviluppo differente, un modello di sviluppo sostenibile, basato sulla green economy, basato su un'idea che non è nostra, modelli di amministrazione illuminati di altre città, di altri paesi, come quello dei rifiuti zero. Questo permetterebbe alla società che gestisce i rifiuti di risparmiare milioni di euro, quasi 10, nell'arco di un anno. E chiaramente questo non può che essere connesso alla questione finanziaria dell'ente. Grazie a tutti.